let's go bitches ho deciso di fare un vlog per aggiornarvi su quello che è successo in queste settimane che non vi ho spiegato un po di cose non vi ho detto un po di cose comunque per prima cosa sto male in questo periodo sono raffreddato ho la febbre e tutto questo per colpa dei denti del giudizio della parte sotto della bocca che stanno uscendo e mi stanno lacerando le gengive facendo venire una febbre veramente alta è una cosa fastidiosissima chi mi ha visto in questi giorni streaming ha visto come sto quindi sto abbastanza soffrendo comunque una cosa che vi voglio dire bitches è di seguire lo streaming su twitch e altre cose perché è anche un modo per vedere quello che faccio come mi alleno quando gioco con chi gioco e comunque come gioco quando gioco diciamo con i miei subscriber le persone che mi supportano eccetera eccetera quindi quello che vi voglio dire è partecipate allo streaming quello su twitch.tv slash powertv che tutti sapete tutti vedete il link che è praticamente ovunque quindi seguitelo perché è molto importante pure per farmi una domanda magari vi posso rispondere io vi possono rispondere quelle che sono le persone che comunque mi seguono di più perché nello streaming ci sono persone che mi seguono spesso cioè ci sono quasi ogni giorno se non sempre possono rispondere anche loro comunque potete creare discussioni chiedere consigli trovare persone eccetera eccetera che è sicuramente utile per quanto riguarda le novità che sono successe beh quello dei killer fish è praticamente una delle cose principali che tutti mi state chiedendo in questi giorni praticamente cos'è successo allora dopo non esserci qualificati non abbiamo giocato tanto perché mancavano alcune persone e quindi non era diciamo possibile allenarsi così dopo settimane che non giocavamo abbiamo partecipato alla gfinity abbiamo giocato contro gli epsilon e devo dire che potiamo vincere contro gli epsilon per chi ha visto la partita sa come è andata e niente come al solito la colpa è ricaduta su quello che era il quarto giocatore il nuovo giocatore the real e sinceramente una cosa fastidiosa se non me dare la colpa sempre a una persona sola quando invece c'erano problemi all'interno del team diciamo proprio a livello di gioco che si dovevano solamente risolvere quelli e non era la colpa del quarto giocatore e quindi torres e t1 hanno deciso di andare fa diciamo free agent cioè non di andare free agent di crearsi un'altra squadra solo loro due con altre due persone e volevano cercare di giocare con amaze un'altra persona dopo qualche giorno hanno richiesto a me e a the real di giocare con loro nel senso non entrambi solo uno dei due e ovviamente io e lui ci siamo rifiutati perché non ci piace questa cosa non mi piace nemmeno il fatto che non puoi creare una squadra senza lavorare sugli errori perché magari all'inizio può sembrare forte ma andando avanti col tempo col fatto che gli altri team salgono di livello e imparano nuove cose la squadra rimane a quel livello e non migliora di più quindi e the real abbiamo deciso di stickare cioè di rimanere assieme e di cercare altre due persone in questo caso sto parlando di software secondo i due giocatori molto esperto e comunque molto conosciuto e ora stiamo vedendo ha giocato con i profesi ha giocato negli unite non gli unite scusate negli epsilon eccetera eccetera ha giocato in molti team ma ha giocato pure con me e ora stiamo cercando un quarto giocatore allo stesso modo t1 sta creando la sua line up passiamo a subsist agon e aj amaze diciamo per contendere il posto nei killer fish per chi prenderà il riposto all'interno dell'organizzazione allo stesso modo torres invece ha deciso di non posso dire di tradire se si può dire di andarsi nei feib assieme a ganelit kiwi e visca barsa dato che hanno droppato quiki e niente quindi questo qui è quello che è successo in questi giorni e sinceramente io sono molto contento di come mi sto trovando con software the real eccetera 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 cioè alla fine mi trovo bene a livello di persone bisogna migliorare a livello di gioco pure perché sono giocatori che hanno una connessione pessima e molte volte il rage della connessione viene sopra a qualsiasi altra cosa all'interno del game per esempio gli sento molto lamentarsi quando giochiamo su host tester eccetera eccetera perché nonostante siano inglesi sono gli unici due inglesi che hanno una connessione del cavolo non troviamo un quarto giocatore quindi non riusciamo a trovare la costanza nel modo di giocare perché ovviamente anche cambiando un giocatore il modo di giocare cambia perché quel giocatore fa cose diverse rispetto a un altro eccetera eccetera speriamo di trovarlo presto e di finire finalmente questa line up in modo da poterci allenare costantemente e cominciare a fare tattiche e strategie in free for all per quanto riguarda il resto avete visto le novità sono stato sponsorizzato da AFC Store un sito di pc rumano proprio di Roma allo stesso modo da Scaf Gaming sono successi un pochino di cambiamenti in questo periodo spero ora di riprendermi bitches cos'altro vi posso dire? beh io sto per andare in streaming tra un po' su Call of Duty io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video e in streaming tra poco su twitch.tv slash powertv let's go